Fere, Fere, si è trasformato! Fere, guarda, ciao! Oddio, Steph, è diventato enorme! Ma chi mi ha combinato? Hai visto? È bellissimo! E poi la posso cavalcare, Fere! Finalmente un Pokémon non buggato, Steph! Finalmente poi cavalcare come si deve! È enorme, fa paura, Steph, aiuto! Sono figo, Fere, cosa mi dici? Sì, è molto bello, però fa un po' paura, capito? Vattene, vattene, vattene! Vieni qua! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E sono Steph, e che sto giocando a Minecraft! E benvenuti in un nuovissimo episodio della Pixelmon con Steph, che inizia col botto! Ma ti sembra che hai fatto evolvere il Pokémon senza di me? Io li ho un po' trascurati, ti dico la verità! Perché? Come mai, Fere? Eh, ho avuto molte cose da fare, Steph, molte cose importanti! Tipo, cosa hai avuto da fare? Dimmi un po'! Arredare casa, te lo devo dire! Sì, l'ho finito! Cioè, tu! Ho fatto anche il secondo piano, addirittura, ok? Hai mollato i tuoi Pokémon per arredarti casa! E cosa dovevo continuare? A stare in una casa vuota e fredda e piena di ragnatele, Steph? Ti sei dimenticato lo scherzo che mi hai fatto lo scorso di video? Ragnatele? Fere, io non l'ho mai visto ragnatele a casa tua! Lo sai quanto ci ho messo a toglierle una vita, Steph? E quindi, dopo che le ho tolte, la casa mi sembrava troppo vuota e ho deciso di arredarla! Va bene! Ho fatto anche il secondo piano, te lo ripeto, adesso è una casa enorme, Steph, stratosferica! Va bene, basta! Altro che il tuo Pokémon gigante! Finito, vai! Finito, ok! Io invece ho sia arredato a casa mia, perché era già mezzo arredata, quindi mi ce l'ho avuto poco! Ma tu l'avrei fatta da povero! Come sempre! Perché sei scarso e non sai arredare! Ok, vai poi! Ne parliamo dopo di questa questione, ne parliamo dopo! Però, oltre ad aver arredato a casa mia, ho anche portato su tutti i miei Pokémon! Visto che tu non hai portato molto in alto i tuoi Pokémon, Fere, ti regalo questa cosa che ho trovato! È preziosissima! Ok! E permette di far salire un proprio Pokémon, una propria scelta, di un livello! Non è molto un livello, però comunque fa comodo! No, è pochino, potevi trovarne più di una, Steph! Fere, ma sai quanto sono rari? Allora, aspetta, chi l'ha do? Si chiamano caramella rara per un motivo, perché è rara! Penso che lo darò al mio ultimo Pokémon catturato, perché poverino è ancora a livello 12, pochettino di tristezza la fata! Ma è più facile? Ah, vabbè, però sì, è carino, dai, ci sta! Guardalo! Guarda come mi guarda, Steph, c'ha gli occhioni dolci! Vai! Livello 13! Hai visto che figata? Sì, sì, sì! Sono rarissime, però quando si trovano fanno decisamente comodo! Comunque, Fere, cosa facciamo quest'oggi? Perché, allora, la mia squadra non è per niente male, ma la tua è un po' così! Io ti dico, sto seriamente pensando di togliere Alolan Vulpix e Ponita, quindi vorrei andare un pochettino in giro a cercare dei Pokémon! No, anch'io, perché comunque ho ancora, innanzitutto, uno slot libero nella mia squadra! La mia possibile squadra! Consolini, non guardate la casa, non guardate, la dovete vedere dopo, quello è dopo! Prima facciamo un po' di cattura, poi facciamo vedere la casa, quindi non guardate, non guardate, ho lanciato una Pokémon, mio Dio! Ok, Fere, possiamo andare! È finito? Grazie, vuoi diventare un rapper, forse? Eh, Fere, non... Le case le vedono dopo! Allora, prima di tutto non ho completato la mia squadra, seconda cosa, non sono anch'io sicurissima se li tengo tutti o no, quindi in base a quello che trovo, diciamo! Dai, andiamo a vedere se troviamo qualcosa di bellino! Ti devo far vedere una cosa! Dove sei? Eh, sì, sono qua vicino, c'è troppo buio! Sei, aiuto! Sono qua, sono qua, sono qua! Girati un attimo, girati! Sono dietro di... Ah, che confuso con questo coso rosso, scusami! No, sono qua! Ok, dimmi! Allora, non è il fiore più bello che tu abbia mai visto? È carino! Sono strabelli, l'ho visto e ne ho rubato uno! Vabbè, 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 vabbè! Fere? Dove sei? Sono stato attaccato da quello che mi sembravi tu! Siamo parecchio lontani da casa, Fere, siamo un chilometro dal villaggio, però in una zona in cui non siamo mai stati! Sai che cosa troviamo secondo me oggi? Cosa? A parte che questo qua è carinissimo! Lo sto desiderando, non so qui di tempo, io lo catturo, poi decido se tenerlo o se magari metterlo nel computer! Ok, nel caso lo metti nella sezione Pokémon carini! Esatto, esatto, esatto! Va bene, va bene, va bene! Ora l'ho mattato! Ce n'era un altro lì a fianco! Aspetta, aspetta che torno! Ops, non ti voglio prendere! Fere, hai il Pokéball? Dimmi prima quello! Steph, ho il suo osso! Allora, sì, ho un Ultra Ball, giusto? Aspetta, tieni, 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 ecco te! Usa neanche tre! Grazie! Ne ho visto un altro che si è girato! Fere, non piangere! È un piangere! Ti ho detto che ce n'è un altro qui da qualche parte! E anche dello zucchero! Ti dà anche dello zucchero! Vabbè, almeno è dolce! Vedi, perché è dolce e cattivo allo stesso modo! Fere, ci sono due Rapidash in questo laghetto! Oh, bello! Guarda il mio schermo! Guarda che belli che sono! Belli, sì! Hanno una chioma meravigliosa! Però, ho il dubbio che siete baggati come Ponita, quindi non vi prendo! Vi lascio lì! E poi non mi serve un pochino di fuoco! Sono arrivato, Stef! Belli, sì! Vero? Proprio belli! Te l'ho detto, sono bellissimi! Mamma mia, ma non finisce più la loro criniere! La loro coda, oltretutto! Non finisce più! Allora, allora! Hai trovato qualcosa di interessante? Sento odore di due Pokémon! Ok! Il primo è Eevee! Non so perché ho il presentimento che troviamo un Eevee! Il pupazzo lì dietro vorrei averlo anche nella mia pizza! E nel caso te lo rubo! No! Il secondo è un Pokémon erba! Io te lo dico, è una di quelle cose che fanno mollare una coppia! Te lo dico, cioè ti avverto qui davanti a tutti, è una di quelle che non si perdona mai! Vabbè! Quindi pensoci tutti! Sono di quelle cose proprio gravi nella vita! Sì, sì, sì! Sì, è proprio una roba... Guarda quanti Pokémon carini! Smettila! Teffere, ciao! Ciao! Che hai trovato? Guarda, guarda, guarda! Che cos'è? Non lo vedo! È Turting, dovrebbe essere lui! Per non fargli troppo danno proviamo... È morto! Come? È morto, Fer! Come, Steph? Turting, ti ricorderò per sempre! Ma dai! Sarebbe stato il mio terzo starter nella squadra! E sai quanto è carino! Vabbè, speriamo che ne troverò un altro! No, no, non ne troverò un altro, Fer! Era quelle occasioni che ti capitano una sola volta nella vita! Adesso mi prendo un Magikarp e mi tengo lui per sempre! Sì, sì, te lo consiglierei, Steph! Te lo consiglierei! Fer, sei pronta alla sfida? Sì! Abbiamo chiamato il nostro giudice Tirless Raptor! Lui è un esperto di arredamento di case! È proprio perfetto! Vero? Vero? Ma io neanche ho una casa! Non è vero! Fai finta di averla! Io non ho neanche una casa! No, sei uno di quelli che arreda le case proprio bellissime! Per i ricchi, per le persone super brave! Sì, 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 proprio quello più perfetto! E soprattutto che accetta dei doni per far vincere uno o l'altro! Beh, io ne ho già uno pronto! Anche tu! Questa cosa mi interessa! In che cosa sei pronta a corrompere? Beh, corrompere i giudici è la prima cosa da fare! Quali sono questi regali? Partiamo dal tuo regale! No, il regale è dopo! Sto già pensando ai regali! Prima di rivedere le case! Vuol dire che... Se dovete corrompere, fatelo prima! Vuol dire che si fa corrompere! Quando sei indeciso bisogna fare il tempismo, hai capito? Giusto, giusto! Quando sei indeciso su chi votare arriva il regalino! È ragione! Che toglie i dubbi! Vai a fare esponici la tua casa! Devi essere convincente! È un cupcake! Più convincente di così! Non so che dirvi! È qua per... È chi non vorrebbe vivere dentro un cupcake gigante! Tutti i maschi del mondo! No, a tirle spiacciono i dolci! A me piace il colore! Però io pensavo fosse un uovo di Pasqua! Quando l'ho visto! Allora, se lo guardi dall'alto, anche la ciliegina! Come puoi confonderla con... Questo è già un insulto pesantissimo per me! Ma proprio te l'ha tirato pesante! Non è un uovo di Pasqua! Beh, vabbè, vabbè, non mi pronuncio ancora! Andiamo dentro, andiamo dentro! Così dimentichiamo tutto questo! Stai già iniziando a portare il giudice dalla tua parte! E vabbè! Un uovo di Pasqua! Prego, entratta! Entratta nella mia dimora! È un po' tutto rosa! Ma che belle sedie! Allora, sì, questo ovviamente è il tavolo, la cucina... Cosa stai rompendo? Niente, niente! Tutta a posta! Il divano! Mettila di rompermi le sedie della casa! Chi ha rotto una sedia? Tirless, mi sta rompendo le sedie della casa! Quindi ricordati che qua c'era una sedia! Allora, Stef, Stef, va bene tutto ma non puoi alterare i risultati! Eh, vedi? La sedia è scritta! Scusate, non ci riesco! Tenete! Non ho problemi! Non sono bravo! Che persona inutile! Ecco qua, qui c'era una sedia! Ok, allora! La cucina è carina, devo essere sincero! Sì, no, la cucina è molto... È bella redata, dai, molto ben fatta! Oddio, la macchinetta per fare i toast! Sì, 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 c'è proprio di tutto nella mia cucina! La parte che mi piace di... Le lucine, le avete notate le lucine di Natale in giro per la casa? Beh, quelle sì, le lucine di Natale sono un tocco... Però a me piacciono le scale! Le scale sono carine con quel blocco... Ma è particolare, è modificato, vero? È rosa! Ma anche le librerie sono rosa! Sì, è tutto rosa! Ma dove ne ho fatte? Vabbè, ma è tutta rosa questa casa! È lo stesso legno rosa della tua casa! Io ci ho fatto le librerie di Libri! Non pensavo si potesse! Sì, si può! Vabbè, io vado al secondo piano! C'è anche il secondo piano, Tirless, perché la mia è una bella casa! Sì, è una bella casa! Questa è la camera da letto con qualche cosa di svago! Il PC, ad esempio! Ok! Questo è un ring perché tutti sanno che la box è la mia passione principale! Quindi qui c'è un ring! È normale per una che fa la casa tutta rosa! La mia corona! Sì, infatti, è una robina vita un po' strana! Cioè, si è messa la corona nel tumodino! Perché io ho anche una corona, capito? Perché le librerie non sono disposte in maniera simmetrica? Mi dà fastidio! È vero! Perché mi piacevano storte! Ma sono brutte! Che fastidio! Dovresti togliere questa! Così! No, lo volevo così! Ma è più bellino! Rimettimi un blocco di lana, allora! Io non ce l'ho! E neanche io! State rovinando la mia camera da letto! Ho degli strati di neve, se vuoi! Va bene anche la neve, ok? Ecco qua! Vabbè, la lasciamo così, poi te la sistemerai, va bene? Ok! Allora! Ora mi sento meglio! Chiedo scusa se ti ho rovinato la casa, non volevo! Sì, ci sono rimasto un po' male, se lo dico! Dopo l'uovo di Pasqua, questo è il colpo di grazia! Sì, esatto! Ho capito che già non gli piace la mia casa! Sì, sì, non mi sembra molto convinto! Andiamo nella mia! Ne approfitto di questo pensiero che è in questo momento! Purtroppo non è bene il redatto! Permesso! Ah, è finita così! No, allora, ci sono tanti posti segreti! Ci sono tanti posti segreti! Quindi questo qua è un po' l'ingresso dove lavoro! Quindi diciamo che vedete subito il posto dove lavoro, che ovviamente non è bellissimo! Qui c'è un ariale relax che secondo me non può non piacere! Perché abbiamo il terrazzino con lo straio! Da qui si vede il mio cupcake! Adesso lo vedi che è un cupcake? Lo vedi la ciliegina? Da lato si si vede! Ecco, grazie! Da lato si vede! Meglio tardi che mai! Ecco, grazie! E comunque qua vi rilassate, fate un bel quadro, insomma, è un posto piacevole dove stare! L'hai fatto tu questo? Sì, sì, hai visto? Beh, complimenti! Sì, mi sono allenato! E poi qua c'è pure una piccola casetta di un uccellino che ogni tanto viene a trovarmi, che infatti cinguetta! Ma che cosa ti dice? Lo vedi? È vero! È carino, è simpatico! Poi, abbiamo la zona, diciamo, un po' più nascosta, quella un po' più segreta, e si scende da qui! Non è molto comodo scendere, però... È un po' visto incastrato delle scale, aiuto! Ce la fai? Sì, ce la faccio! Facciamo di far finta che siano più scomode del dovuto che le scale? Sì, è molto scomoda questa scale, le mie erano belle, sì! Qui abbiamo una farm di ghicocche! È perché c'è uno scheletro! No, non c'è uno scheletro! Infatti, mi preoccupava lo scheletro! Si rilassi scappiamo finché si muove! Lo sei combinato! Allora, dovevo far paura per chi vuole rubare le ghicocche, quindi ho messo uno scheletro! È solo per quello, però... Guarda qua, guarda qua! No! Scusa, scusa! Ci tengo le mie ghicocche! Allora, e comunque questa è la zona ghicocche, però in realtà la zona ghicocche, che dovrebbe essere la zona segreta, non è la vera zona segreta! Perché, se venite di qui, c'è un nascondiglio di quelli proprio tristi, ma proprio che più tristi non si può! Scusami, sbaglio? Ti mancano delle ghicocche? No, 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 non è vero! Non è che non c'è abbastanza luce per farle crescere, ti sbagli! Perché pensi a queste cose? Ah, ok! Ah, qui si entra, ok! Però, qua c'è il tocco di classe, scusate! Oh no! Oh no! Piccolo lounge! Ah, la bella... Aspetta, ci si può entrare? Non ci si può salire? Sì, sì, che si può! Non cercare di rovinare le mie... Ma siamo entrando nello stesso blocco! Aspettate! Esco io, esco io! Ma porca miseria! Sono incastrata! Comunque, questa è una zona bella! Dai, questa è carina! Eh, lo so! Anche perché poi è super segretta! Però, c'è un problema, io sono incastrato qua sopra, non posso più scendere! Devi premere shift! Se shifti, ti fa scendere! Oh, wow! Eh, lo so! Eh, sì, un po' scomoda anche questo! Un po' scomodo, però! Ma che scomodo! Ma non è vero, è comodissimo! Un po' come quando vai nelle mansarde, devi stare chinato perché non ci passi! Sì, esatto! Sì, però sai, dà anche un feeling di calduccio, di sicuro, è piacevole! In ogni caso, ci devi dire qual è il preferito! Aspetta! Io ho fatto una casettina di marzapane per i giudici, scusa! Ma grazie, Fede! E questo non gli dai niente per le feste di Natale, scusa! Ma grazie mille! Eh, è la busterotte, quindi lo sto per bene a casa! Allora, invece io... Non eri neanche pronto! Non l'avevi neanche pronto! Eh, vedi, devi tenere conto di questo! Devi tenerne conto! Questa è finta che sia la bustina che ti danno i tuoi nonni, eh? Ok? Ok! Così, capito? Ecco qua! Ok, non hai visto nulla! Caro Steph, per quello che ho visto là dentro, perché i due diamanti sono un po' pochini, eh? Sembra che vuoi corrompermi bene! Già è meglio! Non valgono per i diamanti! Doveva essere un regalino sincero, non dei diamanti! Io non ho visto diamanti, mi spiace! Devi sempre rovinare tutto! Nessun diamante! Un diamante è per sempre! Si è vista e come! Si è vista e come! Mi ha comprato per sempre, perciò la casa più bella mi sento di darla a Fere! Lo sapevo! Lo sapevo! Non si può vincere contro le casette di Marzapane! Non si può! Aspettato! Aspettato! Beh, Steph, io ci ho messo un sacco di impegno e la tua aveva solo una stanza carina! Botta di nuovo! Ragazzi, se riesci ad inizi a tutto, lasciateci un bel like! È stata la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Grazie a tutti.